La giornalista di Rai3 Lidia Tilotta in occasione della manifestazione Fili dello stesso mare domani martedì 16 aprile sarà all'auditorium Monsignor Cataldonaro dell'Istituto Manzoni Juvara di San Cataldo. L'evento si terrà a partire dalle 10.30 e si inserisce nell'ambito di un progetto di cittadinanza attiva incentrato sul tema della tutela dei diritti delle minoranze e volto a promuovere negli alunni i valori della solidarietà, dell'accoglienza e del rispetto delle diversità. Nella nota si legge che l'incontro con la giornalista Lidia Tilotta si articolerà attraverso un dialogo animato dagli studenti sul libro Lacrime di Sale di cui la Tilotta è coautrice insieme al medico di Lampedusa Pietro Bartolo. Gli studenti daranno vita anche a performance e installazioni artistiche. Contestualmente verrà inaugurata una mostra di elaborati plastico-pittorici sul tema dei migranti. Gli studenti daranno vita anche a performance e installazioni artistiche.